Dal libro di Giobbe Il Signore presedire a Giobbe in mezzo all'uragano. Chi ha chiuso tra due porte il mare, quando uscivo impetuoso dal seno materno, quando io lo vestivo di nubi e lo fasciavo di una nuvola oscura, quando gli ho fissato un limite e gli ho messo chiavistello e due porte, dicendo fin qui giungerai e non oltre, e qui si infrangerà l'orgoglio delle tue onde. Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre. Coloro che scendevano in mare sulle navi e commerciavano sulle grandi acque videro le opere del Signore e le sue meraviglie nel mare profondo. Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre. Egli parlò e scatenò un vento burrascoso che fece alzare le onde. Salivano fino al cielo, scendevano negli abissi, si sentivano venir meno nel pericolo. Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre. Nell'angustia gridarono al Signore ed egli li fece uscire dalle loro angosce. La tempesta fu ridotta al silenzio. Tacquero le onde del mare. Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre. Al vedere la bonaccia, essi gioirono, ed egli li condusse al porto sospirato. Ringrazino al Signore per il suo amore, per le sue meraviglie a favore degli uomini. Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre. Dalla seconda lettera di San Polo Apostolo ai Corinzi Fratelli, l'amore del Cristo ci possiede e noi sappiamo bene che uno è morto per tutti. Dunque tutti sono morti. Ed egli è morto per tutti. Perché quelli che vivono non vivono più per se stessi, ma per colui che è morto e risorto per loro. Cosicché non guardiamo più nessuno alla maniera umana. Se anche abbiamo conosciuto Cristo alla maniera umana, ora non lo conosciamo più così. Tanto che se uno è in Cristo, è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate. Ecco, ne sono nate di nuove. Dal Vangelo secondo Marco In quel tempo, venuta la sera, Gesù disse ai Suoi discepoli, Passiamo all'altra riva. E congedata la folla, lo presero con sé, così com'era, nella barca. C'erano anche altre barche con lui. Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciavano nella barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa, sul cuscino, e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero, Maestro, non ti importa che siamo perduti. Si destò, minacciò il vento e disse al mare, Taci, calmati. Il vento cessò e ci fu grande buonaccia. Poi disse loro, Perché avete paura? Non avete ancora fede? E furono presi da grande timore e si dicevano l'un l'altro, Chi è dunque costui che anche il vento e il mare gli obbediscono? Chi è dunque costui